Benvenuti al mio canale oggi signori siamo tornati qui con un nuovo video e oggi andremo a vedere appunto tutte le sfide della settimana numero 8 Vi invito subito a condividere il video a tutti i vostri amici così da aiutarli con l'avanzamento del pass qualora ci fossero appunto amici rimasti indietro Vi invito subito a lasciare un mi piace e noi partiamo a bomba con il video La lista delle sfide è appunto questa Inflice i danni agli headshot agli avversari Cerca dei forzieri a Borgobislacco Cerca dei forzieri in un singolo match ovvero in una partita unica Cerca gli gnomi affamati che si trovano nella mappa Cerca tra un orso, un cratere e dei frigoriferi E andremo a vedere appunto dove si trova la stellina Eliminazioni con le armi silenziate Equipaggiando un'arma silenziata potete atterrare il nemico con qualsiasi arma Chiudervi dentro e eliminarlo anche con la mitraglietta silenziata Elimina nemici a parco pacifico Scendete a parco pacifico e ripulite semplicemente tutta la città La stella si trova in questo preciso punto della mappa Basta che vi recate appunto qui e la raccogliete così da garantirvi la missione completata La stella si trova in questo caso Far too long No one else was watching us You and me, we were in love Every single day we passed I felt so much I was in your mind Searching for lips, searching for truth I couldn't let you go Without a request Or even a task Don't let me Never be alone again Alone again Don't let me Never be alone again Alone again Alone again Don't let me Never be alone again Alone again Don't let me Never be alone again Alone again Alone again Alone again Alone again Whatever Io spero che questo video vi sia stato utile Se così fosse vi invito a lasciare un commento Se vi piace, condividere il video, passare i social in descrizione Dal mio canale di Telegram in descrizione Dal gruppo di Facebook in descrizione Appunto di Fortnite Così che potete fare domande eccetera Vedete un po' voi se avete dubbi Oppure volete giocare con qualcuno Vi invito a iscrivervi al canale Cliccando su quel fottuto pupazzetto che trovate in fondo al video E noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao